Spunta un cartello su un lido ad ascea ed è subito indignazione e polemica per quello che c'è scritto sopra. Il cartello, affisso dal titolare in maniera goliardica, non è passato di certo inosservato. Docce, bagno, uomini, donne, gay. Queste le indicazioni per chi decide di trascorrere una giornata nel lido cilentano. Apprendiamo da una foto inviata da un nostro simpatizzante che presso un lido ad ascea sono comparse le indicazioni per i servizi contraddistinte dalla dicitura uomini, gay, donne. Ci chiediamo quale sia la funzione di una tale indicazione e le ragioni che hanno indotto la proprietà a un uso arbitrario delle categorie di genere e di orientamento sessuale. A scrivere in un comunicato stampa è Francesco Napoli, presidente di Archigay Salerno. Non abbiamo ben capito, continua il presidente, dove dovrebbero andare ad esempio le donne lesbiche, le persone trans, le persone bisessuali e tutte le altre categorie di persone che non si riconoscono negli uomini gay e nelle donne. Tra l'altro non vedo nella foto un'indicazione per il bagno destinato alle persone con disabilità. Questo ci induce a pensare che siamo di fronte ad un uso improprio, offensivo, probabilmente giustificato dalla goliardia e irrispettoso delle categorie di genere e di orientamento sessuale. Di questo uso improprio chiederemo immediatamente spiegazioni alla proprietà. Resta l'amarezza nel constatare questo ed altri accadimenti analoghi, come resta alta la guardia e l'esigenza di una sempre più capillare formazione e informazioni, in particolare sui luoghi di lavoro. Chiediamo in ogni caso ed auspichiamo l'immediata rimozione delle indicazioni così come sono state formulate, ha concluso Francesco Napoli, presidente Archigay di Salerno.